eccola ragazzi mi sei incantato il cellulare guarda che rumore primo salto ehi vai guarda sei lì sotto che doccia mamma comunque l'abbiamo visto bene d'acqua ragazzi rispetto a come l'ho vista io dove l'ha vista io era molto più lontana non si vedeva niente guarda che volume d'acqua eh sì perché non si è ancora sbagliato non c'è secondo balzo infatti chissà quanto è profondo lì si 15 minuti che forza pian pianino arriva all'anima del pian pianino il pian pianino è un minuto e quindici ve lo dico e poi dov'è che si viva dove sfuga? eh su sfuga adesso fra un po' arriva adesso credo che deve essere emozionante sì da dove Luca? eh adesso quando... ah sì? sì eh un bel santone sì Grazie.